riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero dall'arrivo al bivio che ci dice verso destra in valgardena e verso sinistra si va a salire sul passo sella e noi faremo questo e stiamo per iniziare il quarto video di questo giro il sella ronda reverse da corvara e in questo video vedremo proprio la salita al passo sella 2240 metri sul livello del mare e iniziamo a pedalare e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite questo potrebbe essere uno di quelli sella ronda bike day ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate una serie di link utili tra cui anche la traccia su strava per poter fare se volete lo stesso giro e ovviamente se volete potete seguirmi su strava in modo da sapere subito i giri che faccio in bici volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram e quindi Iscriviti al nostro corso gratuito www.mesmerism.info Un alber 100 Spettacolo Cascata Spero si veda Faboloso Faboloso C'è un'alternativa qua Un'alternativa più panoramica 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 Grazie a tutti Si comincia a salire 8% 9 Spettacolo Spero che si vedi 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 Spero che vedi Spero che si 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 vedi Passa sella Parcheggio 6 euro al giorno Noca Chalet Selle Sper mai ca ancora a 80 km All'idea vi sono Ducati In sella A sinistra per i ciclisti La destra per le moto La destra per i ciclisti Anche con le nuvole La destra per i ciclisti Sempre uno spettacolo La destra per i ciclisti Ma che si stonano Però importante Un altro bianchista Ecco infatti Più o meno Credo sia il punto Dove mi ero fermato l'anno scorso A fare panoramica Quando scendevo La destra per i ciclisti La destra per i ciclisti La destra per i ciclisti Spera I 100 m di aumento di quota fatti oggi fatti 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 Grazie a tutti. 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 2.240 metri su livello del mare. Corvi o cornacchie che osservano incuriositi e poi svolazzano via. Godiamoci il panorama e soprattutto la mia fedelissima Bianchi. Questo video è finito. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Il sellaronda reverse continua con la discesa dal sella. Ciao, alla prossima!